Allora, si blocca il nastro sotto il mignolo e l'altro sotto l'indice e poi si gira intorno all'indice e intorno al pollice, poi a seconda del numero dei fiocchi, quante volte si gira? Due volte, poi prendi questo, lo giri attorno al fiocco e passi questa parte sotto a questo qua e tiri e il fiocco è fatto. E' un fantastico fiocchetto a due. Bello!